Continuiamo la nostra serata insieme con un nuovo appuntamento con Ancecomo che così come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi avrà come tema la rinnovata collaborazione tra Ancecomo e A5 per consentire a RSA e a Onlus di sfruttare ancora il super bonus 110% come sempre protagonisti del focus di questa chiacchierata sono i nostri ospiti ritrovo presidente di Ancecomo l'ingegnere Francesco Molteni grazie per essere con noi e amministratore delegato di A5 SPA il dottor Stefano Cetti grazie ad entrambi per essere con noi quindi sicuramente un tema di grande interesse parto subito dall'ingegnere Molteni quindi la premessa è proprio questa Ancecomo e A5 avevano già di fatto sottoscritto un protocollo di intesa qualche tempo fa se non sbaglio risaliamo al 2018 quindi andando proprio indietro nel tempo di che cosa si trattava quali erano le caratteristiche di accordo in quel momento? nel 2018 quando c'era l'opportunità di intervenire con lo sconto del 70% però allora era uno sconto fiscale non era previsto lo sconto in fattura è stata un'esperienza interessante proprio alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni perché allora processammo circa 200 condomini cioè portammo le offerte a circa 200 condomini ma solo 3 aderirono alle proposte perché ancora non c'era il meccanismo ancora che la percentuale di agevolazione fosse significativa non c'era il meccanismo dello sconto in fattura e quindi nell'ambito condominiale trovare tutte le famiglie con disponibilità per poter intervenire era complicato e questo è già un punto di riflessione significativo ti la vedo annuire assolutamente non banale in effetti ha fatto la differenza poter avere lo sconto in fattura ha fatto la differenza bene quindi quella la premessa con una considerazione in effetti poi ha portato a percorsi ben differenti su quello che è successo dopo perché poi proprio sulla scorta di queste esperienze noi ci siamo trovati molto preparati quando è uscito invece il meccanismo del 110 con lo sconto in fattura e quindi dalla nostra collaborazione siamo riusciti a intervenire in modo significativo sul territorio proprio perché rispetto ad altri player avevamo una struttura già consolidata sapevamo già come erano i meccanismi ovviamente quelli nuovi erano differenti da quelli precedenti però adeguarsi alla normativa è stato breve e nel giro di poco tempo siamo riusciti a dare tante risposte al territorio questo ingegnere Molteni la storia diciamo così ma veniamo ad oggi qual è la situazione attuale dei bonus? Molto è accaduto e molto è cambiato quindi? Oggi siamo ancora in una situazione come il 2019 cioè abbiamo ancora la possibilità di fare il 70-30 senza lo sconto in fattura che significa che stiamo praticamente tornando a quelle percentuali di allora cioè bisogna processare 200 condomini per farne due quindi tanto è accaduto però siamo tornati indietro quindi questa storia racconta che ancorché le percentuali di agevolazione possono essere generose in realtà l'intervento avviene solo se c'è poi un contributo significativo da parte dello Stato che consenta almeno i meccanismi fiscali Quindi di fatto possiamo dire che le opportunità ad oggi concretamente quali sono? Le opportunità che sono rimaste in maniera maggiore oggi non sono più dedicate al settore dei condomini ma si spostano sulle onlus e sulle RSA ed è il motivo per cui abbiamo insieme rinnovato la convenzione per ricomprendere queste categorie che per tutto l'anno prossimo se rispettano certi requisiti di ingresso possono ancora agevolare con il 110 e con lo sconto in fattura Bene, allora andiamo per entrare nel dettaglio proprio dal dottor Cetti perché questo addendum che è stato stipulato insomma recentemente con riferimento allo storico protocollo e quindi alla storia di cui l'ingegnere ci ha reso conto intanto per quali ragioni, quali sono le novità e contenuti? Ma i contenuti sono sostanzialmente quelli che diceva già Francesco cioè in realtà facciamo la stessa tipologia di intervento la facciamo però su questi soggetti e tra l'altro aggiungo anche ci fa anche forse più piacere intervenire su questi soggetti perché sono soggetti appartenenti al terzo settore sono RSA, sono comunque e questo richiama molto la nostra mission la nostra mission, ne abbiamo parlato spesso Esatto, la richiama molto e ci troviamo veramente molto allineati su questo sono proprio soggetti che per destinazione proprio per DNA si occupano di problematiche sociali o comunque legate alle persone anziane e quant'altro quindi c'è un qualcosina in più che ci rende ancora più orgogliosi il contenuto del protocollo è sostanzialmente lo stesso abbiamo fatto tesoro di alcune osservazioni che erano emerse in corso d'opera abbiamo messo a fuoco e messo a punto alcuni passaggi però il vero concetto è una partnership che vince perché poi l'abbiamo accennato prima però ricordiamoci anche che alla fine sono state coinvolte 40 imprese e sono stati messi a terra più di 200 milioni di euro di lavori quindi stiamo parlando su un comparto come quello comasco stiamo veramente parlando di numeri imponenti quindi sicuramente uno schema vincente sicuramente una squadra vincente e poi adesso aspettiamo e vediamo magari se evolverà ancora la normativa aspettiamo le case green vediamo un po' di capire che cosa ci arriverà anche dall'Europa però questo ripeto modello di partnership sul territorio che tra l'altro richiama anche l'iniziativa che abbiamo fatto di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa di creazione di valore per il territorio che abbiamo ripreso e stiamo proseguendo con tutti gli stakeholder abbiamo appena fatto un incontro non lo vogliamo perdere anzi lo vogliamo valorizzare ulteriormente quindi non perdere mai di vista questi pilastri della vostra attività a maggior ragione laddove sia condivisa ma a Ingegnar Molteni ripuntualizzo proprio un tema che ha lanciato tra le righe il dottor Cetti ovvero direttiva europea a case green un altro argomentone credo che poi a cascata avrà tutta una serie di considerazioni punto primo di che cosa si tratta? Si tratta di una nuova direttiva che ha fatto l'Europa che mira sostanzialmente a diminuire l'inquinamento generato dagli edifici che concorrono per il 60% circa alla emissione di CO2 nell'ambiente quindi l'Europa dice per avere un futuro migliore dobbiamo tutti insieme cercare di diminuire l'inquinamento l'inquinamento è legato in grossa parte agli edifici bisogna intervenire e efficientare le case perché consumino meno oggi ci sono ovviamente a disposizione una serie di tecnologie che possono portare a rispondere a questo il tema ovviamente è quello che dicono tutti chi è che paga perché se il discorso, torniamo a quello che dicevamo prima cioè se la persona o la famiglia singola da solo non ce la fa è necessario che ci sia un aiuto da parte dello Stato o in questo caso qui dell'Europa che intervenga a sostegno di una direttiva che ha fatto ed è stata emanata da lei Certo, a ingegnere mi viene questa prima considerazione un conto, la prospettiva futura sulle nuove costruzioni e quant'altro ma i proprietari di casa che comunque già si trovano delle abitazioni in un paese Italia che sappiamo non è proprio caratterizzato magari da costruzioni recentissime per loro probabilmente questa notizia è più una preoccupazione che una gioia che dice? Il tema è proprio questo le case nuove andranno con delle direttive che necessariamente porteranno a fare degli edifici a consumo zero e questo è una strada l'altra strada che è quella più complicata è efficientare un patrimonio di edilizio che per il 70% ha più di 50 anni l'Italia ha una caratteristica diversa da molti paesi europei perché l'Italia è il paese con la proprietà edilizia più diffusa di tutta Europa questo significa che più che in altri paesi gli interventi sono sulle spalle delle famiglie quindi gli interventi di efficientamento delle abitazioni ricadranno sulle capacità delle singole famiglie o delle singole persone Quindi è un po' come dire che queste regole europee ancora una volta poi dovrebbero essere un po' più adattate magari alle realtà delle singole situazioni perché se parliamo d'Italia non tutti i paesi sono uguali poi l'Italia per esempio ha una caratteristica ancora diversa dagli altri paesi europei di avere un tantissimo patrimonio della parte storica delle città che magari in parte o in grande parte è anche vincolato quindi c'è un tema che ovviamente una direttiva generale dell'Europa poi necessita una declinazione sul singolo Stato e questo direi che rispetto alla prima versione della direttiva europea è stata fatta in adozione cioè quando è stata adottata è stato tenuto conto di queste particularità ora il governo ha due anni di tempo per declinare questa direttiva e renderla attuale in Italia bisogna secondo noi partire dall'esperienza del 110 e di quello che è stato fatto in questi anni qui di positivo e di negativo per trovare un equilibrio tra quelle che sono le risorse personali quindi delle famiglie le risorse che può mettere a disposizione lo Stato e quelle che potrà mettere a disposizione l'Europa Ora Ingegnere naturalmente la sua considerazione è ovvia credo che ognuno di noi arriverebbe a questa conclusione di fatto il legislatore, il governo a parer suo riuscirà a rispondere efficacemente a questa necessità perché poi bisogna sempre fare il conto con i danari come si dice Bisogna sempre fare il conto con i soldi secondo me la fortuna che ha l'Italia in questo momento qui e che ha diversamente da altri paesi ha vissuto un'esperienza su questo tema che le consente di costruire una serie di dati per poterlo fare e programmare con più coscienza di quanto non sia stato fatto con il 110 Quindi un po' come quello che lei ci ha anticipato a inizio chiacchierata voi siete partiti avvantaggiati quando nel 2018 già guardavate in questa direzione avete fatto un po' di esperienza poi eravate pronti quindi forse adesso il nostro governo i legislatori potranno essere più coscienti e più, come dire, avere la situazione sotto mano di certe cose che magari poi sfuggono e creano più danno che vantaggio Sono stati spesi, in quegli anni qui sono stati investiti quasi 200 miliardi quindi c'è una serie di dati e di notizie che gli altri paesi non hanno e che noi abbiamo e possiamo farne ovviamente tesoro Certamente Siamo quasi in conclusione eccetti questi cinque anni quindi di collaborazione tanti progetti messi a terra le mission condivise delle prospettive ancora da percorrere insieme Giudizio conclusivo? Giudizio conclusivo è estremamente positivo perché in realtà siamo cresciuti insieme è cresciuto il comparto industriale edilizio che fa riferimento ad Ancecomo siamo cresciuti noi abbiamo fatto esperienze insieme e mi sento di dire riprendendo un po' la palla che alzava Francesco prima che forse sarebbe opportuno il governo sentisse anche gli operatori li sentisse un pochino di più e in modo strutturato chi costruisce chi si occupa di energia ci sono dei tavoli vanno creati dei tavoli ci sono dei momenti di confronto abbiamo delle associazioni proprio per quello e sarebbe opportuno proprio anche per fare tesoro di quello che è andato e che non è andato bene aprire un confronto in modo tale che questo recepimento sia proficuo In battuta conclusiva Ingegnere Molteni la sua opinione sulla collaborazione anche sulle ultime parole? Sì, anche per noi è stata un'esperienza significativa che tra le tante cose come diceva Stefano ha aiutato anche le nostre aziende a crescere molto quindi è stata veramente un'esperienza che è per quello che vogliamo continuare speriamo che ci siano anche altre occasioni diverse dall'efficientamento energetico per continuare a lavorare insieme tra stakeholders del territorio perché portiamo beneficio E allora buon lavoro buon lavoro e grazie all'ingegnere Francesco Molteni al dottor Stefano Cetti soprattutto per aver scelto ancora Angoli per raccontare nel dettaglio questi progetti grazie a voi grazie anche a voi che mi avete seguita naturalmente prima di lasciarvi vi ricordo come ogni sera la nostra mail angolichiocciolaespansionetv.it rimane sempre a vostra disposizione Angoli torna come ogni sera domani puntualmente alle 19 e tra pochissimo passo la linea ai nostri colleghi dell'informazione grazie a tutti